In questi giorni, cari amiche e cari amici, ho ricevuto dei messaggi in Instagram. Non so come iniziare la storia, ma all'inizio così. Ho ricevuto dei messaggi in Instagram che era di una persona di cui non faccio il nome, perché non era neanche un suo nome. Ma sono sempre questi profili che dicono che sono delle web pagine, delle pagine di ammiratori, di attori italiani prevalentemente. Già ho avuto conoscenza di altri soggetti uguali che si facevano chiamare uno in onore all'attore Renzo Montagnani, un altro a Lino Banfi. E questo misteri... non so come. Ma d'altra parte, ecco, ci siamo messi a parlare, lui mi mandava dei messaggi diretti in Instagram, e poi ha anche pubblicato degli screenshot dei miei video in YouTube. Allora ha iniziato a dirmi, guarda io ti aiuto, ti voglio sponsorizzare i tuoi video, il tuo canale. Però rispondimi a queste 18 domande, già l'aveva fatto un altro soggetto precedentemente. Allora io ho detto, beh, tanto, io sempre rispondo alle domande del mio pubblico, gli risponderò alle domande sue. E così ho risposto a queste 18 domande. In una, che in pratica non era una domanda, lui mi diceva, vedrai che continueremo a collaborare, tu mi farai da ispettore. E io gli ho detto che l'ispettore Cogia, che il tenente Colombo, l'ispettore Derrick, l'ispettore Gadget, l'ispettore Clouseau, lui mi ha detto, no, Sherlock Holmes, però non ti preoccupare che dovrai investigare qualcosa in Facebook. E lì mi è entrato un dubbio, perché dico, ma che vuole questo, no? E poi, finalmente ricevo ieri, l'altro ieri, mi sembra ieri, o l'altro ieri, che c'è stato poi questo gap con Instagram, Whatsapp e Facebook, no? Che c'è stato un problema con il server centrale. E lui mi ha detto quello che voleva. Cioè voleva passarmi due profili di Facebook e che io scaricassi tutte le foto di questi due profili e li mandassi per posta elettronica. Allora io ho detto, ma guarda, questo non c'è da fare, perché non lo fai tu? E così, questo è rubare materiale, privato, personale, senza autorizzazione, senza consenso. E lui mi fa, ma che, sono scemo, Facebook ha dei controlli molto rigidi, se mi sgamano poi magari, non so, mi denunciano, mi arrestano, mi fanno pagare una multa. Io gli ho detto, vai da un computer pubblico? Perché lui mi ha detto, no, io non ho profilo di Facebook, di YouTube, non ho nulla. Sembra strano. E gli ho detto, vai a un computer pubblico e fate un profilo di... Beh, me lo sono tolto di torno dicendogli, guarda che anche Instagram è di Facebook. Quindi tutto quello che mi ha detto in Instagram, adesso Facebook lo sa. Oh, oggi sono entrato e ha cancellato tutto. Grazie.